Una restrizione della mia libertà personale, non potevo comunque navigare in rete per quel periodo, sono stato anche isolato socialmente e hanno anche abusato sul mio corpo. Quella che è stata fatta all'ospedale di Fano è una tortura. Sono parole forti, quelle rilasciate dal giovane rebelle ricoverato da mercoledì scorso fino alle 12 di ieri nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Muraglia Pesor. Un provvedimento al quale è stato sottoposto perché lo studente del Battisti si era incatenato in un banco con un lucchetto della bici opponendosi all'utilizzo della mascherina in classe. La vicenda, accaduta all'istituto Livetti di Fano dove erano arrivati gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118, in poco tempo è diventata un caso nazionale con la mobilitazione di cittadini, parlamentari e associazioni che hanno chiesto di liberare il ragazzo perché secondo loro sottoposto ingiustamente ad un trattamento sanitario obbligatorio. Inoltre le dimissioni disposte dai medici due giorni prima rispetto ai sette totali previsti in questi casi confermerebbe l'infondatezza del TSO. La misura poi è ritenuta da molte persone illegittima ed esagerata autorizzata dal sindaco di Fano Massimo Seri. A quanto pare infatti il ragazzo si sarebbe arrabbiato non a scuola ma una volta arrivato al Santa Croce dopo aver appreso la notizia dell'ordinanza firmata dal primo cittadino. E questa mattina a parlare è stato proprio lui il protagonista dell'episodio che si è presentato per primo alle ore 10 di fronte alla sua scuola, qui dove oggi studenti, genitori e insegnanti provenienti da tutte le marche si sono incontrati per protestare contro il trattamento riservato al giovane. Io sto bene e secondo me all'ospedale di Fano mi hanno rinchiuso per una questione politica non sanitaria, cioè io non sono pazzo e mi hanno iniettato questi due calmanti che mi hanno rintantito la testa per un giorno e poi li ho rifiutati tutti ma ci sono altri ricoverati che li prendono una volta al giorno e non riescono nemmeno a fissare un libro. Ti avevano ritirato il cellulare e poi restituito? No, non me l'avevano restituito, l'ho preso per darlo ai miei genitori per evitare che cancellassero le registrazioni. Sì, mi hanno ritirato il cellulare perché mi hanno isolato le persone e non possono avere più contatti con gli amici, ma la regola dice solo con i parenti, una volta sono arrivati i miei parenti e mi ci hanno fatto parlare solo un minuto e poi hanno chiuso la porta. Il 18enne ha raccontato di aver ricevuto due calmanti e di essere stato sottoposto a un tampone, tutto contro la sua volontà e all'insaputa dei genitori, poi il giovane ha ripercorso quanto accaduto a scuola. Le forze dell'ordine erano già state chiamate più volte a causa del suo rifiuto di indossare la mascherina. Una volta hanno spostato i miei compagni in un'altra aula in modo che io dovessi spostarmi per seguire la lezione, e quindi mi hanno impedito di studiare. Un'altra volta in un laboratorio di informatica in cui non c'erano dei posti in cui potessi fiestare il lucchetto e le forze dell'ordine hanno sollevato un banco per togliere l'aggancio che avevo fatto. Io mi ero andato a documentare con le leggi, così avevo provato a portarle, avevo anche fatto dei fogli scritti, ma non mi hanno ascoltato e così ho continuato più volte, più avanti ho conosciuto il costituzionalista, io mi ero già informato sulle mascherine, non è tutto dovuto a lui, e mi ha detto che io sarei potuto entrare in classe e se le forze dell'ordine mi portano fuori, ho ragione io, però devo stare fermo e non posso neanche spostare le mani con cui mi prendono. Ma come credi si evolverà questa vicenda? Ti aspettavi tutti questi attestati di vicinanza e questa risonanza mediatica? Sì, allora diciamo che in un primo momento quando ero all'ospedale mi sono un po' spaventato, però effettivamente non c'era questa minaccia perché sono venute tante persone ad aiutarmi, con cui ero in contatto tramite la rete e mi hanno iscritto in tantissimi, chiedendomi come sto, le mie condizioni. Continuerai questa battaglia o terminerà qua? No, non è che smetto perché me lo impongono con la forza di smettere, non ha senso. Sì, continuerò in qualche modo, adesso devo vedere quando rientrare proprio fisicamente a scuola e poi quest'estate troverò lavoro, quindi non è detto che ritornerò a scuola l'anno prossimo, però qualora ci dovesse essere bisogno delle mie competenze, prenderei il diploma e mi metterei anche a laurearmi. Grazie. Grazie. Grazie.